Salve a tutti ragazzi, sono Kienigmark e questo è un nuovo video sul canale dello Shogunato Italiano e siamo qui con il trentesimo episodio, siamo arrivati a quota 30, trentesimo episodio della campagna su Total War Shogun 2 con il turno 121 se non ricordo male, 122, scusate ho detto una cavolata al solito quindi siamo qui, turno 122, trentesimo episodio, l'ho ripetuto più giusto per dirvelo e ci avviciniamo verso la fine sempre di più, oggi è mercoledì, dovrebbe essere mercoledì guardate che devo controllare sempre dal telefono che giorno è oggi mercoledì 9, dovrebbe essere mercoledì 9 settembre, se i miei calcoli non sono sbagliati ma penso siano giusti e siamo qui, siamo qui, spero di aver ricevuto un buon feedback nello scorso episodio ok, qua possiamo già iniziare a sbarcare tan tan tan, olè e questi possono salire qua ok, allora voi andate a incriminarvi qua al confine oh, non laggare per favore Bizen, posso iniziare a spostare l'esercito da Bizen? rischio però, diciamo che lo spostiamo quasi tutto tranne 1 e 2 vediamo che succede, ovviamente non gli sta bene questa cosa, quindi reclutiamo un Mezuke Bizen, tassazione, ok, basta che recluta un'altra unità in realtà ok questo esercito, ora non sono sicuro se mandarlo qua a supporto e penso che farò così sì, mandiamolo qua, ce ne ho due dall'altro lato questi li mettiamo qua a ricaricarsi a ricaricarsi guardate che termini proprio a rigenerare le truppe, a ripristinare le unità allora un attimo, vediamo un po' agente reclutato reclutato devo riprendere a parlare bene ok bene qui allora intanto vi ricordo mentre guardo un po' quello che devo fare qua con questo esercito no, non riesco a ripararla questa? peccato va bene intanto che mi ricordo che devo fare vi ricordo di mettere 40 di sì mettere di mettere mi piace al video per arrivare a quota 40 per il prossimo episodio di venerdì e vi chiedo una cosa visto che mi sono dimenticato di chiedere nello scorso episodio io stavo pensando di portare appunto la domenica o il sabato un video su un gioco a caso quando riesco non sempre non sarà una cosa periodica e pensavo di portare per il prossimo non so se questo sabato quando sarà vedo dalle vostre risposte mi regolo 60 Seconds che non è che sia un gioco tanto originale l'hanno fatto in molti però sinceramente a me a differenza di altri che hanno fatto in molti che ne so tipo Agario a me Agario non ho mai cioè lo gioco quando vado al bagno gioco Agario però non più di questo e quando non c'ho nulla da fare però non è che è un gioco da portare sul cane non ce lo vedo invece 60 Seconds non mi dispiace non so se a voi può piacere portarlo una volta ogni tanto magari due episodi al massimo così per vedere se riesco a vincerlo fatemi sapere voi nei commenti che ne pensate tanto costa poco costa 10 euro lo prendo e lo faccio vabbè poco e poi un giochetto che mi piace che mi attira e io penso che qua possiamo passare il turno passiamo di nuovo il turno tanto stavo parlando io stavo cianciando come mio consueto ah tra l'altro Gianmarco il canale è stato inattivo anche per questo Gianmarco ha registrato ma ha problemi con la connessione quindi molto probabilmente lui verrà qui da me quando può e mi passerà tutti gli episodi che c'ha che ha che c'ha perché devo parlare così tutti gli episodi che ha ole eccoli qua loro e allora no ci spostiamo qui assolutamente e attacchiamo con due eserci al turno dopo scusate un attimo che sto facendo dei passi millimetrici che so io a che servono e quindi lui ne caricheremo un po' di colpo dei suoi non tutti nello stesso giorno uuuu uuuu guardate qua infatti già la crescita da 8000 8400 sono con le strade mamma mia che belle le strade con torri imperiali guardate che belle queste strade vabbè e quindi li caricheremo li caricheremo tutti di colpo e li riuscirò a distribuire bene insieme ai miei i suoi video e ha ripreso company anche che lo stavate chiedendo in parecchi allora era anche una serie abbastanza cioè abbastanza parecchio seguita non abbastanza fatto un bel po' di visual company ehm si e quindi questo tanto io ogni tanto lo ricordo perché sono un like grabber voglio mi piace no semplicemente per sapere se ci siete però ve lo devo ricordare dei 40 mi piace per il prossimo episodio allora questa sale qui vediamo se riesce a farli sbarcare in questo turno perfetto non potremmo chiedere di meglio e questa nave se ne torna qua con le altre quando ci arriva tanto non mi serve più allora con queste due attacchiamo Kyoto vediamo con chi farlo attaccare lui era il mio preferito vediamo se lui o lui no mio preferito assolutamente Yoshi Isa figlio di erede scherziamo quindi lui attacca per primo e l'altro va di supporto anche se sta già qui almeno vediamo cosa c'ha ok c'ha l'esercito mi sembra bello pieno però tu attacchi e tu arrivi dopo a posto ehm down down questo esercito gli coicchi eh porca miseria porca miseria ronin con katana sono belle unità queste eh belli forti gli coicchi però con due eserciti li spaziamo via in un attimo tra l'altro forse riesco a prendere anche oki così perchè se la prendono loro la riconquisto io ok allora vediamo un po' quando arrivo sui 37 minuti 38 minuti di registrazione diviso 2 diciamo a 40 minuti di registrazione stacco forse un po' prima 38 allora si perchè non registro riseguito così perchè non devo sincronizzare l'audio esterno con l'audio del gioco due volte come facevo prima che ci sprecavo più tempo ah tra l'altro non so se l'ho già detto comunque lo dico adesso ok bescio aggressore difensore kikawa i kikawa sono no aspettate un attimo aspettate un attimo i kikawa non sono i miei vassalli sono questi kikawa giusto eh si non ci sono altri clan sono questi kikawa se non sbaglio eh no io sto col mio difensore entri in guerra a fianco del tuo alleato no scusami un attimo allora il mio alleato è kikawa se io entro con i kikawa divento nemico di bescio che palle eh devo farlo per forza porca miseria che cosa brutta guardate qua tutti i confini rossi mamma mia che brutta cosa eh qua mi attaccano allora ragazzi questa la devo giocare allora gioco per forza questa ci provo non è facile però non è neanche impossibile provo a giocarmela allora così siete contenti che in due game play avete visto due partite tacci vostri me l'avete tirata me l'avete e che dicevo non mi ricordo che stavo dicendo ah sì nelle prossime serie in questa ancora li tengo non farò vedere sopra che turno è perché ci metto veramente tantissimo tempo a farlo perché io sono uno precisino voglio che compaglia in quel momento e duri così tanto la scritta turno poi in medieval c'è scritto a destra che turno siamo quindi sarebbe anche inutile comunque solo per avvisarvi di questa cosa intanto vado sul campo di battaglia e ci vedremo durante l'assedio ed eccoci qui sul campo di battaglia ha scelto pure pioggia questo maledetto allora intanto tutti sulla difensiva tutti così metto play e vedo da dove arriva allora arriva tutto sparpagliato tacci su però più uomini ce l'ha di qua allora qua c'ha più uomini li mettiamo così i due più forti li mettiamo così qua uno da solo dovrebbe riuscire a fronteggiare qua cosa arcieri ascigaro cogliari ascigaro cogliari tutti ascigaro cogliari di qua e quindi qua devo metterne per forza almeno uno e questi visto che di là al generale qua sono con arco la maggior parte no iari 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 tre arco 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 tre eh martacci proprio mannaggia lui allora questi devono stare qua a difendere questo da solo forse forse ce la può fare se ha supporto dei di loro dei servitori samurai la torre comunque le torri ci danno un po' di aiuto qua immaginavo dovete sparare su questi però ah voi tiratevi dietro finchè non arrivano oh dietro di quelli ho abbastanza paura perché mi bersaiano che palle oh ma maledetti ok voi tiratevi ancora un pochetto e voi mettetevi qua così ok via 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 qua così ok questi stanno facendo i bastardi aggirando voi qua così questa mi sa che la perdo ragazzi perdo una città così a gratis perché non mi sono reso conto degli on brutta storia però ci si prova ragazzi ci si prova assolutamente ok voi tirate su qui eh stanno andando in fuga tutto il mio esercito sono troppi troppi proprio troppi voi disimpegnatevi disimpegnatevi eh il nostro generale è morto la vedo veramente troppo brutta questi però sono ancora in parecchi sono quindi se questi riescono ad arrivare qua se riesco a fargli andare in fuga questi potrebbe essere vinta però la vedo veramente di tosta la vedo ardua ardua no no via via andate via fate fare il lavoro alle torri aveva troppe troppe unità aveva corpo a corpo qua no è andata è andata è impossibile carichiamo le retrovie via 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 però veloci no è 22 uomini dove vado con 22 uomini modalità molto difficile stiamo giocando vi ricordo è improbabile proprio 20-23 secondi hanno vinto qua ci sono rimasti due uomini però abbiamo fatto valere il nostro onore ragazzi è la prima battaglia cioè seria persa praticamente seria poi era impossibile era un po' impossibile però ci abbiamo provato gli sto facendo ancora qualche vittima tre uomini due uno è andata è andata sono curioso di vedere il rapporto uccisioni però perché comunque vittoria a caro prezzo praticamente sconfitta a caro prezzo è sconfitta di misura anzi no di misura neanche quindi ragazzi ci vediamo dopo il caricamento per vedere un po' cosa è successo e vi saluto come potete vedere praticamente ha perso metà dell'esercito metà dell'esercito e probabilmente le uccisioni gli hanno fatte tutti gli arcieri vediamo un attimo non me le fa vedere le sue no le mie le hanno fatte gli shikaro con gli ari e quelli con gli arcieri non è che abbiano fatto tanto i suoi non mi fa vedere giusto non posso vedere i suoi come hanno come hanno fatto però questa ce la riprendiamo in due secondi negato è un peccato perché vediamo alleanza infranta shimatsu e takeda cavolo ok un attimo un attimo qua siamo un po' è proprio problematica la situazione ah intanto prendiamo vabbè lo faremo nel prossimo episodio però voi avete già idea di quello che sto per fare cioè è palese quello che sto per fare i zumo però è dei bescio qui devo attaccare assolutamente con questi eserciti uniti faccio solo questa cosa per farvi vedere cosa ho intenzione di fare si perderò uomini ma non mi interessa devo attaccare il prima possibile ok questi devono arrivare non c'è niente da fare anche se ci metteranno tanto qua uno e due qua uno e due qua ho qualcosa di buono no qua ho solo unità da difesa questi sono i kikawa e i vassali ho fatto bene qua dovrò fare un bel po' di cose nel prossimo episodio che registrerò subito di seguito penso se mi regge la batteria acquisito il cotone bene ragazzi quindi mi dispiace per questa sconfitta però capita è normale sto giocando in modalità di difficoltà quasi massima insomma non leggendaria però poco sotto e se non sbaglio è modalità difficile o molto difficile sapete non mi ricordo posso abbassare nuovamente le tasse comunque perché di soldi ce ne ho parecchi da parte 22.000 non li sto spendendo ragazzi che dire io vi ricordo di lasciare un mi piace per arrivare a quota 40 per il prossimo episodio di farmi sapere cosa ne pensate di questa serie di farvi sapere se potevo giocarla meglio questa battaglia ma era proprio forse avrei potuto reclutare qualcosa in più ma l'ho già reclutato era proprio impossibile all'ultima mi sarei aspettato che avrebbe attaccato perché da qui avrebbe attaccato o qua o qua comunque per oggi è tutto ci vediamo a un prossimo video all'episodio 31 che sarà venerdì quindi venerdì se mi calcoli non sbagliano se oggi allora un attimo 7 9 dovrebbe essere venerdì 11 settembre molti di voi saranno tornati a scuola penso di quelli che vanno ancora al liceo comunque che vanno alle medie o quello che sia in ogni caso fatemi sapere voi che state facendo come vi sono andate le vacanze come vi ho già detto ci vediamo al prossimo video venerdì sempre all'orario che ho detto dovrebbe essere le 15 e 30 no sto scherzando le 15 e 30 come sempre e bene ragazzi ciao